Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Voto unanime dell'Aula di Palazzo Cesaroni alla proposta di legge in materia di equo compenso per tutelare il lavoro dei professionisti e attenuare l'evasione fiscale. Il servizio sui lavori d'Aula curato da Alberto Scattolini. L'Assemblea Legislativa ha approvato la proposta di legge bipartisan concernente norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale. La proposta, illustrata in Aula dal primo firmatario Stefano Pastorelli della Lega, mira a superare il fenomeno che negli ultimi anni, anche per l'effetto dell'abolizione delle tariffe professionali che consentivano la definizione dei compensi intesi come minimi inderogabili, ha caratterizzato le procedure di affidamento dei servizi e ha visto i committenti privati e molte amministrazioni prevedere compensi con modalità non corretta, spesso neanche minimamente, se rapportati alla qualità e alla quantità delle prestazioni richieste, oltre che alle diverse responsabilità attribuite ai professionisti. La proposta di legge, come è stato ribadito in Aula, si prefigge dunque di tutelare il lavoro dei professionisti e allo stesso tempo di attenuare l'evasione fiscale, rendendo obbligatorio il pagamento delle correlate eque spettanze da parte del committente che voglia ottenere qualsiasi autorizzazione edilizia. La legge prevede il deposito, al momento della presentazione della pratica, della lettera di affidamento d'incarico che richiami a sua volta la data di stipulazione del contratto. In prima commissione è iniziato l'esame della proposta di legge a firma dei consiglieri della Lega Carissimi e Peppucci sulle misure di semplificazione per la ripresa socio-economica dell'Umbria a seguito dell'emergenza Covid. Il servizio di Davide Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, preseduta da Daniele Nicchi, si è riunita per iniziare l'esame della proposta di legge dei consiglieri Daniele Carissimi e Francesca Peppucci della Lega che riguarda le misure di semplificazione per la ripresa socio-economica del territorio regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Alla seduta hanno preso parte anche gli assessori Roberto Morroni e Michele Fioroni. La proposta di legge ha l'obiettivo di rendere più rapidi e snelli i procedimenti ambientali e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori, pur sempre nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini. Per questo propone la riduzione dei termini per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi decisoria e un più ampio ricorso alla conferenza di servizi semplificata, ma anche l'utilizzo di modalità telematiche per lo svolgimento degli incontri. Inoltre la proposta di legge punta ad elevare i livelli di efficienza amministrativa in materia edilizia e perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile. Per questo l'atto propone di estendere l'ambito di applicazione della scia anche agli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Infine la proposta punta alla promozione dell'economia circolare, con procedure semplificate di recupero dei rifiuti. Dalle audizioni degli assessori è emersa una sostanziale condivisione dello spirito dell'iniziativa da parte della Giunta, pur con qualche osservazione sull'articolato della proposta. Morroni ha sottolineato che ulteriori semplificazioni devono essere fatte per rendere più efficace ed efficiente la pubblica amministrazione, ma si devono escludere danni ambientali in ogni opera. Per questo l'esecutivo presenterà alcune osservazioni alla proposta di legge come per la riduzione della tempistica della conferenza dei servizi, che potrebbe non essere sufficiente per arrivare a una decisione. L'assessore Fioroni ha ribadito l'apprezzamento per un intervento di semplificazione che per la Giunta è fondamentale e che questa proposta di legge, ha sottolineato, ha una evidente convergenza con un più ampio piano di semplificazione su cui sta lavorando la Giunta regionale. Prosegue in seconda commissione l'iter della proposta di legge della Lega sulle nuove tipologie di accoglienza extra-alberghiera. Ce ne parla Marco Paganini. L'introduzione nella legislazione turistica regionale di una nuova tipologia ricettiva costituita dalle strutture extra-alberghiere in ambienti naturali, case sugli alberi, nelle botti o nelle grotte, è stata il centro dell'audizione della seconda commissione. Sulla proposta di legge che intende introdurre un modello di ricettività già presente in altri paesi e regioni italiani che garantisca una fruizione turistica del tutto originale e sostenibile del patrimonio territoriale e ambientale ed è firmata dai consiglieri della Lega, si sono espressi i funzionari della Giunta regionale, rappresentanti di CNA, Rete delle Professioni Tecniche, Confcommercio, Anci, Faita, Confindustria, Movimento Consumatori, FiaVet e Federalberghi. Dagli interventi è emerso che l'intento dell'iniziativa viene ritenuto condiviso per lo sviluppo dell'attrattività turistica dell'Umbria e del turismo esperenziale, consentendo anche alle imprese turistiche di ampliare accoglienza e redditività. Nel corso della seduta è stata messa in evidenza la necessità di una definizione più ampia delle nuove tipologie ricettive e un loro inquadramento all'interno delle normative regionali e nazionali, in particolare di quelle ambientali ed urbanistiche. In seconda commissione, la crisi del settore della ristorazione a causa della pandemia. Si è svolta un'audizione alla quale hanno preso parte operatori, l'assessore della Giunta Fioroni e il direttore regionale dell'Inps. Servizio di Alberto Scattolini. In seconda commissione, il tema della pesante crisi del settore della ristorazione conseguente alle restrizioni legate all'emergenza Covid-19, in videoconferenza da Palazzo Cesaroni e in numero ristrettissimo in presenza alla Sala Brugnoli, hanno preso parte la riunione rappresentanti di associazioni di operatori del settore, lavoratori, titolari di attività, l'assessore regionale Michele Fioroni e il direttore regionale Inps dell'Umbria Fabio Vitale. È immersa una situazione particolarmente critica, dovuta principalmente ad un'attività di ristorazione estremamente ridimensionata che nell'ultimo anno avrebbe lavorato a pieno soltanto 4 mesi su 12. E il grido d'allarme, arrivato da ogni componente del settore, chiedendo maggiore considerazione anche in virtù degli ingenti investimenti fatti per adattare le attività alle regole previste, riconfermando la volontà e l'impegno a rispettarle pienamente, hanno chiesto anche più chiarezza, minore burocrazia, e maggiore celerità rispetto all'erogazione di cassa integrazione e ristori. Alla Commissione è stato presentato un documento unitario e condiviso nel quale vengono evidenziate richieste definite indispensabili per la ripartenza. L'assessore Fioroni, nel definire il quadro complesso e drammatico, ha assicurato la massima attenzione da parte della Regione, sottolineando che con il superamento dei codici a teco potrebbero arrivare importanti risorse. Ascoltato anche il direttore regionale di IMSS, Fabio Vitale, rispetto ai tempi di elargizione della cassa integrazione in deroga ed ordinaria. Vitale ha assicurato che l'IMS dell'Umbria è in assoluta correntezza con i pagamenti delle casse integrazioni in generale. La Commissione predisporrà una proposta di risoluzione da porre al voto dell'Aula e da consegnare a tutti i parlamentari eletti in Umbria per mettere in campo tutti gli interventi necessari, sia a livello regionale che nazionale, per dare risposte concrete agli operatori del settore. L'attuazione delle norme su agricoltura sostenibile e banco della terra al centro dell'ultima riunione del Comitato di Controllo. Audizione del Comitato per il Controllo e la Valutazione dell'Assemblea Legislativa con i rappresentanti dell'Agenzia Forestale, dell'Associazione Nazionale dei Comuni, della provincia di Perugia, di CIA, Confagricoltura e Col di Retti. Al centro dell'incontro partecipativo le norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura per promuovere l'agricoltura sostenibile. Dagli interventi è emerso che l'attuazione della legge, nello specifico per quanto concerne il banco della terra, ha incontrato degli ostacoli e una scalza partecipazione ai bandi per l'assegnazione dei terreni. Tre le criticità sulle quali è stato auspicato un intervento, il valore dei canoni di concessione che risulterebbe troppo alto, la ridotta dimensione dei compendi, la difficoltà delle proprietà a disposizione che si trovano in alta collina e montagna e adatte per lo più ad un utilizzo silvopastorale che non seminativo. L'obiettivo di rimettere in produzione boschi, strutture e terreni ora inutilizzati deve tenere conto anche della presenza di grandi aziende di altre regioni che possono partecipare ai bandi solo per poter in seguito ottenere dei finanziamenti europei. Inoltre andrebbero rimesse al centro dell'intervento regionale le finalità della legge, puntando più sulla manutenzione del territorio e del paesaggio, degli edifici rurali e sul ripopolamento delle zone marginali che non sull'incasso dei canoni di locazione. In terza commissione, Commissione Sanità e Servizi Sociali, si è svolta un'audizione sulla proposta di legge della Lega, prima firmataria Francesca Peppucci, di istituire in Umbria la figura di un garante per le persone con disabilità. All'audizione sulla proposta di legge per l'istituzione di un garante delle persone con disabilità di iniziativa dei consiglieri Peppucci, Fioroni, Mancini, Carissimi, Pastorelli, Rondini e Nicchi, tutti della Lega, hanno preso parte i rappresentanti delle associazioni ANFAS, FAND, FISH, AISM, Ente Nazionale Sordi e del Centro Pari Opportunità della Regione. Il garante delle persone con disabilità dovrà provvedere all'affermazione del rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Le associazioni hanno chiesto di essere coinvolte, se possibile, nella scelta della persona deputata a ricoprire tale incarico, una scelta che è in capo alla Regione. Chiedono anche un riconoscimento da parte dell'ente di quanto esse già fanno nella quotidianità per i disabili e che la nuova figura del garante sia di aiuto nella soluzione dei principali problemi che riguardano le persone con disabilità, a partire dai progetti personalizzati. La Presidente Eleonora Pace ha chiesto alle associazioni di depositare o far pervenire tutte le loro osservazioni in forma scritta al fine di confrontarsi ulteriormente, subito dopo Pasqua, per concludere l'iter della nuova legge. Sono tre gli atti di indirizzo annunciati dai consiglieri regionali dallo scorso lunedì. Sottolineando che è improrogabile che Terni abbia il suo nuovo ospedale integrato con la rete e la struttura dei servizi sanitari locali, il consigliere Daniele Carissimi della Lega ha annunciato la presentazione di una mozione firmata insieme ai consiglieri Melasecche, Rondini e Peppucci, tutti della Lega, e al consigliere Eleonora Pace di Fratelli d'Italia. La mozione impegna la Giunta regionale all'immediato avvio della progettazione e successiva costruzione del nuovo ospedale ad alta specialità della Conca Ternana. La consigliera Simona Meloni, Partito Democratico e Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, ha presentato una mozione per chiedere il massimo impegno della Giunta nel contrasto alle dipendenze patologiche, una piaga sociale sempre più diffusa sul territorio regionale in ogni fascia di età. Per Meloni servono strumenti adeguati e supporti all'altezza delle ferite che lascerà la pandemia ed ha aumentato non solo le disuguaglianze ma anche le fragilità psicologiche delle persone costrette all'isolamento forzato nelle proprie abitazioni. Contrastare la strada al NutriScore e sostenere il sistema alternativo NutriMeter o NutriInform definito in Italia ai fini di una più corretta informazione dei consumatori e una tutela della libera concorrenza. Lo ha dichiarato la consigliera della Lega Paola Fioroni, Vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, annunciando la presentazione di una mozione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo a dare continuità alle iniziative politiche e diplomatiche su questo tema, quello del corretto inquadramento delle risorse agroalimentari che nel primo caso vedrebbe ad esempio la Coca-Cola Light in categoria superiore al prosciutto di Norcia, fra gli alimenti sani. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive della Regione e disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.